Musica Faccio a morte con i miei sogni, con i miei desideri Con l'inferno e il paradiso, qui e i miei pensieri Musica Oggi un greco a dame intenso, a lungo il paradiso Oggi il lunedì e l'embrissì, con i miei pensieri Musica che arriva in un quadro di venti Sono il filo delle radiazioni delle televisioni e sono il calcario del sol e non si fa Dicendo il fracco da un settore oltretà C'è un genso di noi è l'unico cammino che si fa da matti il suo giardino con noi è il suo giardino con noi è il suo giardino con noi è il suo giardino con noi quanto prendere un giardino con noi e non è il suo giardino? Oltretutto Grazie a tutti Grazie a tutti